e buongiorno ragazze stamattina incomincio i miei lavori fanno la lavatrice come devo fare il letto e poi andiamo in cucina a pulire ecco ho accumulato un po di roba da lavare questo non è un problema un problema dopo che devo stirare vado a buttare il patume ragazzi ci vediamo dopo allora ragazze sono andata a recuperare una caccia vite perché oggi voglio pulire il forno e proviamo anche spazzolone bene procediamo ragazze è sporchissimo adesso ve lo faccio vedere guardate mi ha lasciato tutto bicarbonato di tutto adesso devo pulire anche qua che questo vetro quadro devo smontare ecco adesso poniamo allora tanto la bagna un pochettino con l'acqua c'è bicarbonato non fa niente però a me non piace che ho lasciato tutto questo coso qua allora io uso finisco di usare questo qua per il forno spazzino ormai non va più va bene fa lo stesso così abbiamo anche questo qua Grazie a tutti 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 Vediamo Sì Grazie a tutti 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 Grazie a tutti